L'attore e musicista Jackson O'Dell, meglio conosciuto per il suo ruolo nella serie televisiva statunitense The Goldbergs, è morto all'età di 20 anni. Secondo quanto riportato dal medico legale della Contea di Los Angeles, l'attore è stato ritrovato privo di sensi in un centro di riabilitazione della California. Sulla causa della sua morte stanno lavorando gli investigatori. Come riporta la BBC, O'Dell è famoso per aver interpretato una parte nella sitcom della B.C.T. Goldbergs, nel ruolo di Harry Coldwell, ma è apparso anche in Modern Family e Arrested Development. Non solo attore. O'Dell era conosciuto anche nel mondo della musica, è stato anche un cantautore e ha contribuito alla colonna sonora del film romantico Forever My Girl, uscito all'inizio di quest'anno. Sul suo account Twitter, la sua famiglia lo ha descritto come una luce splendente e un'anima brillante, amorevole e di talento. E hanno aggiunto, aveva ancora molto da condividere. La nostra famiglia continuerà sempre a sostenere questa verità. Il nostro desiderio è lo faccia anche il resto del mondo che lo ha conosciuto e amato. Adesso proveremo ad affrontare questa immensa perdita in modo privato. Non ci saranno altre note. Anche Charlie Deboe, un altro attore di Goldbergs, ha espresso il suo dolore per un vero talento come O'Dell. Riposa in pace, Jackson O'Dell, ha scritto in un tweet l'attore, sono così felice di averti conosciuto. Eri un vero talento e una persona ancora più vera. Rip Jackson O'Dell. I'm so happy that I got to know you. You were a true talent and an event newer person. L'attrice Ariel Winter, che interpreta Alex Dunphy in Modern Family, ha dichiarato, è molto difficile per me sentire parlare di qualcuno che muore, ma quando se ne va una persona così giovane sono ancora più triste.